Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Nella serata televisiva più irriverente d'Italia, a striscia la notizia, si è consumato un momento carico di tensione e suspense. Stefano De Martino, celebre conduttore, si è trovato al centro di un vero e proprio vortice mediatico. Valerio Staffelli, inviato del programma, lo ha raggiunto per consegnargli il tapiro d'oro, un riconoscimento che in questo caso sottolinea le turbulenze nella vita privata del conduttore, catalizzate dalle pesanti accuse della sua ex, Belen Rodriguez. Belen, dopo un periodo di silenzio dovuto a una crisi depressiva, aveva rivelato in una puntata di Domenica in Commara Venier di essere stata ripetutamente tradita da Stefano, menzionando addirittura il coinvolgimento di dodici donne, tra cui, secondo le sue parole, Alessia Marcuzzi. Il servizio di striscia, previsto per la puntata dell'11 gennaio, promette di essere carico di tensione. Staffelli, in un faccia a faccia con De Martino, non si tira indietro e lo incalza con domande dirette. Lei è un traditore seriale, chiede Staffelli, e De Martino, con un sorriso amaro, risponde Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l'ho già detta. Non mancano i colpi di scena. Staffelli non si ferma e prosegue cercando di ottenere una smentita sul presunto flirt con Alessia Marcuzzi. De Martino, però, non si lascia scuotere facilmente. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L'unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social. E quando Staffelli prova a indagare sui dettagli dei presunti tradimenti, De Martino schiva abilmente con una battuta. La matematica non è mai stata il mio forte. Per De Martino, questo è il terzo tapiro d'oro ricevuto in carriera, un simbolo delle polemiche che lo hanno coinvolto, comprese quelle con l'ex Belen e il figlio Santiago. Le parole di Belen continuano a riecheggiare nel mondo dello spettacolo e i diretti interessati, De Martino e Marcuzzi, scelgono il silenzio per non alimentare ulteriormente la controversia. Un intreccio di dichiarazioni e silenzi che tiene il pubblico incollato allo schermo, in attesa di nuovi sviluppi. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti. E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.